Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in entrambe le direzioni. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Segnaliamo che il cantiere sulla FIPL chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 e sull'autostrada 11. Sempre in FIPL per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Per quanto riguarda le autostrade, in A1 possibili disagi per un incidente tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!